ciao ciao a tutti ben trovati e benvenuti sul mio canale anno nuovo mese nuovo kit nuovissimo per voi burzi creazioni semplici bijoux di nuovo insieme per mostrarvi il nuovo progetto e quindi il nuovo kit che abbiamo pensato per voi dopo il successo del bloody mary che ancora lo richiedete in tantissime degli orecchini carmen è la volta di nuovo di un paio di orecchini o comunque di un modulo noi abbiamo pensato un kit per orecchini tutto nuovo che prevede l'utilizzo di una tipologia di perline tutta nuova anche per me che sono le storm duo per me è tutta nuova so che già è stata utilizzata anche ampiamente in altri tutorial ma per me è nuova e me ci sono approcciata come suggerisce il nome in duo quindi l'ho usata in coppia all'interno del mio progetto e proprio per questa visione duale il progetto porta il nome di chic to chic appunto quindi guancia guancia un qualcosa che si fa in coppia e appunto il concept per questo mese per il progetto chic to chic è proprio quello delle coppie infatti il mio kit porta il nome di peach e mario l'ho scelto perché il mio ragazzo si chiama mario lui mi chiama peach anche perché a napoli è il diminutivo di piccirella ecco e quindi io ho scelto questo kit vi mostro subito il progetto che andremo a realizzare poi vi parlerò delle altre degli altri kit e delle altre coppie che abbiamo scelto qui nel banner vedete tante coppie e la protagonista qui è René con il suo cagnolone e appunto ripresa più volte appunto come coppia l'abbiamo pensato in questo senso non quindi alle coppie scontate come romeo giulietta eccetera ma coppie in intese in senso un po più più ampio allora il modello che realizzeremo insieme l'orecchino che andremo a realizzare insieme è questo qui c'è la luce artificiale mi perdonerete ma è buio fuori e spero di mostrarvelo al meglio allora eccolo qua ditemi se non è bellissimo anche questo orecchino come mi capita di solito è nato di getto e niente io lo trovo davvero bello è semplicissimo è velocissimo da realizzare ve lo assicuro e anche in altre colorazioni è davvero bello io ho scelto questi qui perché è un po quello diciamo sono quelle che io preferisco ma ce ne sono tante altre davvero belle come vi dicevo c'è un rivoli da 14 cipollotti 3x4 restorm duo che appunto uso in coppia 11 0 8 0 e poi c'è questa splendida goccia in ceramica che andrà nel kit e come per Irene abbiamo scelto questo perno questo è di una misura leggermente più grande perché è bellissimo guardate che bel contrasto con questo light sapphire centrale che comunque è un colore un po particolare no per questo tipo per questo tipo di nuance ma per noi ci stava benissimo e quindi ecco qua gli orecchini cheek to cheek me li mostro un po più da vicino mi scuso sempre per la luce artificiale ma piove da due giorni ed è buio e che dire questa è appunto la versione che andremo a realizzare nel tutorial che seguirà nei prossimi giorni ma le altre versioni che abbiamo realizzate per voi sono candy e terence monica e chandler peach e mario appunto rossella e rett e poi telma e louise e come sempre vi metterò la carrellata alla fine di tutte di tutti i kit di tutti gli abbinamenti che io e René abbiamo studiato per voi adesso vi mostro nel dettaglio cosa contiene il kit e poi ci salutiamo e vi mostro appunto tutte le colorazioni il nostro kit per realizzare gli orecchini cheek to cheek nella fattispecie nel modello peach e mario contiene al suo interno due rivoli da 14 mm in questo caso sono i light sapphire una colorazione di locaille 8 0 e qui ci sono le navaglio white un filo di cipollotti 3x4 mm e qui ci sono i color salmone bellissimi davvero bellissimi una colorazione di 11 0 e qui ci sono le toho bronze bellissime poi ci sono le protagoniste diciamo un nuovo componente che sono le storm duo eccole qui e in questo caso ci sono le vintage copper questa colorazione qui bellissima poi una coppia di gocce e questa colorazione è bellissima è un mattone aranciato stupendo dei perni io e René abbiamo scelto questi perni bellissimi che abbiamo usato anche per i René appunto che sono bellissimi richiamano perfettamente le gocce e poi in dotazione René naturalmente che non si risparmia mai ed è sempre il top vi fornirà anche un po' di 15 0 per realizzare il cappietto e questo è il contenuto del nostro meraviglioso kit degli orecchini cheek to cheek modello Peach & Mario ma vi ricordo che ci sono che sono disponibili ben 5 modelli 5 versioni di questo orecchino e li trovate tutti sul sito www.semplicibiju.it naturalmente vi lascio tutti i link utili giù nell'info box sia di semplicibiju che quelli relativi ai miei contatti social alla mia pagina facebook, instagram eccetera naturalmente fateci sapere con un commento qual è la vostra versione preferita o comunque l'abbinamento di colore che preferite e niente lasciateci un pollice in su se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo presto con il tutorial per realizzare i nostri orecchini cheek to cheek grazie ancora e a presto ciao 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 ciao